Strecci, Strecci, da quanto tempo è che corri stamattina? No, poco, 3 km di riscaldamento, adesso si inizia a fare qualcosa di più. Ah, 3 km di riscaldamento? Adesso quanti km fai? Mauro, l'hai antirana. Una decina, una decina. 10 km di corsa? Sì, sì. Tutto qua in piazza d'armi? Sì, sì. Allora, io voglio dire una cosa, lo sai che... Lei è antirana, armi, porca, quella miseria. Anch'io, mi sta venendo un crampo. Come ti chiami, come ti chiami? Marco. Marco, come me. Anche lui, anche lui si chiama Marco. C'è da bastare. Ci siamo, eh? Ci siamo, ci siamo. Scusa Marco, possiamo cambiare gamba? Sì, sì, aspetta. Cambiamo gamba, dai. Oh, meno male. Marco, allora, volevo dirti che... Allora, sembra che se noi tutti italiani facessimo più sport... Ecco. ...risparmieremmo un miliardo e mezzo di euro. Di sanità. Sicuramente. Allora, voglio dire, dato che risparmiamo e risparmio anch'io... Ecco. Perché non vai a correre, porca, quella miseria? Vai! Un miliardo e mezzo, devi fare anche tu la tua parte, no? Noi adesso ci sediamo perché... Vai, 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 vai a correre. Ciao Marco. Ciao Marco. Ciao. Anche a te Marco. Ciao. Ciao. Mi sta venendo un crampo. Carca miseria. Ah. Anche a te... Grazie a tutti